Soprannome. Temps Torso Murders. Numero vittime. Sette accertate. Modus operandi. Smembramento, decapitazione, squartamento, mutilazione. È la fine dell'Ottocento. Londra, già terrorizzata per gli efferati omicidi di Jack lo squartatore, dovette far fronte ad un altro spietato serial killer mai identificato. Il soggetto ignoto si aggirava per Londra, in cerca di vittime femminili da uccidere, fare a pezzi, spargerli per tutta la città e assistere compiaciuto al terrore che stava scatenando. Dei sei torsi femminili trovati, solo uno è stato identificato. 5 settembre 1873. Vicino al molo di Battersea, nel sud-ovest di Londra, una pattuglia della polizia rimosse la parte sinistra del torso di una donna dal fango sulle rive del fiume Tamigi. Con l'avanzare della giornata, sono state trovate più parti del corpo, tra cui la parte destra del busto e porzioni dei polmoni. Il giorno seguente, il viso e il cuoio capelluto di una donna, staccati dalla testa, furono trovati galleggianti nell'acqua a largo di Limehouse. Poi arrivarono una coscia e una spalla destra. Il medico che fece l'autopsia ha stabilito che la vittima aveva molto probabilmente circa 40 anni con capelli scuri corti e sottili. Una caratteristica che speravano potesse rendere più semplice l'identificazione era una cicatrice ustionata sul seno sinistro. Dozzine di persone in cerca di familiari di mezza età passarono per vedere il cadavere, ma nessuno poteva essere sicuro che fosse quello che stavano cercando. Passa solo un anno quando furono trovati i resti di un'altra donna, senza testa, mani e piedi. In seguito all'autopsia risultò essere stata uccisa con un corpo contundente prima che l'assassino si accanisse sul cadavere. Maggio 1887. Fu trovato il torso di un'altra vittima vicino alle rive del Tamigi, avvolto in un fascio. Nel corso delle settimane successive, il Tamigi restitui anche le altre parti del corpo tranne la testa ed il collo, motivo per il quale il medico non riuscì ad identificare la vittima. 11 settembre 1888. La giornata iniziò con la scoperta di un braccio destro e una spalla su un terrapieno. Un altro braccio è stato trovato il 28 settembre, sul ciglio di una strada. Il 2 ottobre 1888 fu scoperto un torso di donna avvolto in un fascio da un muratore proprio in un cantiere edile in via di costruzione. La macabra scoperta fece ritardare i lavori e la polizia era sempre più convinta che lo psicopatico che stava terrorizzando la città si stava anche prendendo gioco delle autorità. I medici e altri professionisti hanno notato che il braccio destro della vittima era stato stretto con un laccio emostatico prima che il corpo fosse stato smembrato. Ciò indicava che chiunque avesse smembrato il corpo molto probabilmente aveva qualche conoscenza medica, in particolare di anatomia. La città di Londra era ormai in preda al panico, all'isteria. Oltre a queste donne selvaggiamente scannate, iniziarono a comparire prostitute squartate per le strade e lettere provocatorie e minatorie da parte di Jack lo squartatore. 4 giugno 1889. Tre ragazzini stavano giocando lungo il Tamigi quando videro qualcosa galleggiare e avvicinarsi alla riva. Si trattava di un braccio. I norriditi e spaventati corsero ad avvisare le autorità. Scotland Yard si mise subito all'azione. Altre parti del corpo furono ritrovate lungo la riva del fiume. Una ragazza riconobbe dai resti che si trattava di Elizabeth Jackson, una sua amica d'infanzia. Aveva 24 anni quando è morta ed era incinta di otto mesi. Gli investigatori notarono che l'abilità usata per smembrare il corpo non era stata quella di un medico, ma piuttosto quella di un macellaio. L'omicida seriale, privo di scrupoli, lanciò la coscia destra contro la cassa dell'autore di Frankenstein. Ancora una volta si prese gioco delle autorità, divertendosi con quelle povere vittime come se fossero giocattoli. 10 settembre 1889. È mattino ed un uomo si dovette imbattere in un busto di donna sotto l'arco della ferrovia a Wittecepell. Le braccia erano ancora attaccate, mentre le gambe e la testa erano state amputate. Scotland Yard lavorava giorno e notte, senza sosta. La gente era preoccupata e voleva risposte. Ma non c'era nessun indizio e sospetto. Solo troppe domande. Chi era quel mostro che si divertiva a tagliare a pezzi le donne? Era un macellaio? O era sempre lui, Jack lo squartatore? Anche questo tremendo caso di cronaca nera finì negli archivi degli omicidi risolti.